Aveva un aspetto orribile. I capelli gli arrivavano fino alle ginocchia, la barba, pur se non folta, fino all'ombelico. Le sue unghie erano come artiglie d'uccello e sulle braccia e le gambe, dove gli stracci non arrivavano a coprire il corpo, la pelle gli cadeva a brandelli. I primi uomini in cui si imbatté, contadini, in un campo vicino alla città di Pierfort, corsero via gridando quando lo videro. Nella città stessa, invece, fece sensazione. Le persone si radunarono a centinaia per fissarlo a bocca aperta. Più d'uno lo prese per un galeotto fuggito. Molti dissero che non era un vero e proprio essere umano, bensì un misto tra un uomo e un orso, una sorta di creatura dei boschi. Uno, che un tempo era stato per mare, affermò che aveva l'aria di appartenere a una tribù selvaggia di indigeni della Cayenna, che si trovava al di là del grande oceano. Lo condussero davanti al mer. Là, con stupore dei presenti, egli esibì il suo diploma di garzone. Apri la bocca e, con parole un po' gorgoglianti, erano infatti le prime parole che pronunciava dopo una pausa di sette anni, ma ben comprensibili, raccontò che durante il viaggio era stato sorpreso dai briganti, rapito e tenuto prigioniero in una caverna per sette anni. Durante questo periodo non aveva visto né la luce del sole né un essere umano. Era stato nutrito mediante un cesto deposto nell'oscurità da una mano invisibile e, infine, liberato con una scala a pioli, senza sapere perché, senza mai avere visto i suoi rapitori o i suoi salvatori. Aveva scogitato questa storia perché gli sembrava più credibile della verità, e in effetti lo era, dato che simili attacchi briganteschi non erano affatto rari sulle montagne dell'Auvergne, della Languedoc e della Sevenne. Comunque, il maire la mise prontamente a verbale e riferì l'accaduto al marchese della Toyad de Spinas, feudatario della città e membro del Parlamento a Tolosa. Fin dai quarant'anni il marchese aveva girato le spalle alla vita di corte di Versailles, si era ritirato nei suoi possedimenti e l'aveva vissuto per le scienze. Dalla sua penna era uscito un'importante opera sull'economia nazionale dinamica, nella quale proponeva l'abolizione di tutte le imposte sulla proprietà terriera e sui prodotti agricoli, come pure l'introduzione di un'imposta sul reddito progressiva al contrario, che colpisse più duramente i più poveri, costringendoli in tal modo a sviluppare maggiormente le loro attività economiche. Incoraggiato dal successo del libretto, redasse un trattato sull'educazione di giovinetti e giovinette in etrà tra i 5 e i 10 anni. Quindi si rivolse all'agricoltura sperimentale e tentò di coltivare un prodotto ibrido animal-vegetale per ottenere il latte, una specie di fiore mammella, trasferendo sperma di toro su diverse specie d'erba. Dopo alcuni successi iniziali, che lo misero in grado persino di produrre un formaggio fatto di latte erbaceo, il quale fu definito dall'Accademia Scientifica di Leone di gusto caprino, anche se leggermente più amaro, dovette sospendere i suoi tentativi a causa dei costi enormi dello sperma di toro sparso a ettolitri sui campi. Comunque, l'occuparsi di problemi biologico-agrari aveva destato il suo interesse non soltanto per la cosiddetta zolla di terra, bensì per la terra in generale e per il suo rapporto con la biosfera. Aveva appena terminato i lavori pratici sul fiore che produceva latte, che si buttò tutto con indomito slancio da scienziato, in un grosso saggio sui nessi tra la vicinanza alla terra e l'energia vitale. Sosteneva la tesi che la vita potesse svilupparsi soltanto a una certa distanza dalla terra, poiché la terra stessa emanava di continuo un gas di putrefazione, un cosiddetto fluidum letale, che paralizzava le energie vitali e prima o poi portava definitivamente alla morte. Per questo tutte le cose vive tendevano ad allontanarsi dalla terra con la crescita, cioè crescevano di là da essa e non dentro di essa. Per questo protendevano verso il cielo le loro parti più preziose, il grano la spiga, il fiore i suoi petali, l'uomo la testa, e sempre per questo, quando Lettali incurvava e li piegava di nuovo verso terra, dovevano necessariamente soggiacere al gas letale, nel quale infine, dopo la morte, si trasformavano anch'essi mediante il processo di decomposizione. Quando all'orecchio del marchese de la Taillade Spinasse giunse la notizia che a Pierfort avevano trovato un individuo che aveva dimorato per sette anni in una caverna, quindi totalmente circondato dalla terra, elemento di putrefazione, egli non stette più nella pelle dall'entusiasmo e ordinò subito che portassero Grenoy nel suo laboratorio dove lo sottopose ad un'analisi minuziosa. Trovò la sua teoria confermata con la massima evidenza. Il fluidum letale aveva già colpito Grenoy al punto che il suo corpo di venticinquenne manifestava chiaramente fenomeni di decadenza senile. «Soltanto la circostanza», spiegò Taillade Spinasse, «che a Grenoy durante la sua prigionia avessero somministrato cibo proveniente da piante lontane dalla terra, probabilmente pane e frutta, gli aveva impedito di morire. Ora il precedente stato di salute si poteva ripristinare soltanto espellendo radicalmente il fluidum mediante un apparecchio di ventilazione ad aria vitale escogitato da lui, Taillade Spinasse. Un simile apparecchio si trovava nel sottotetto del suo palazzo di città Montpellier e se Grenoy era pronto a mettersi a disposizione quale oggetto di dimostrazione scientifica, lui non soltanto l'avrebbe liberato dalla sua immediata infezione da gas naturale, ma gli avrebbe anche regalato una bella somma di denaro». Due ore dopo erano seduti in carrozza. Sebbene le strade si trovassero in condizioni miserabili, percorsero le 74 miglia per arrivare a Montpellier in due giorni giusti, perché il marchese, nonostante l'età avanzata, non poteva esimersi dal frustare di persona, cocchiere e cavalli e dal dare una mano, anche lui in molti casi, di rottura di stanghe e molle. Tanto era entusiasta della sua scoperta, tanto era desideroso di presentarla al più presto a un dotto pubblico. Greneux, invece, non ebbe il permesso di lasciare la carrozza neppure una volta. Dovette restare seduto, con i suoi stracci indosso, completamente avvolto in una coperta intrisa di terra umida e di argilla. Durante il viaggio ricevette per cibo radici crude. In tal modo il marchese sperava di conservare nella condizione ideale, ancora per qualche tempo, l'infezione da fluidum terrestre. Giunto a Montpellier, fece subito trasportare Greneux nella cantina del suo palazzo. Spedì inviti a tutti i membri della facoltà di medicina, del circolo dei botanici, della scuola agraria, della federazione dei chemiofisici, della loggia massonica e delle restanti associazioni di eruditi, che in città erano non meno di una dozzina. E qualche giorno dopo, esattamente una settimana dopo aver rilasciato la solitudine della montagna, Greneux si trovò su un podio nell'aula magna dell'Università di Montpellier, presentato a una moltitudine di centinaia di persone come l'avvenimento scientifico dell'anno. Nella sua conferenza, Taillard Espinasse lo definì la prova vivente della giustezza della sua teoria sul fluidum letale, proveniente dalla Terra. Mentre a poco a poco gli strappava gli stracci dal corpo, illustrò l'effetto devastante esercitato dal gas di putrefazione sul corpo di Greneux. Qui si vedevano pustole cicatrici provocate dalla corrosione del gas, là sul petto un enorme carcinoma di gas rosso acceso, ovunque una disgregazione della pelle e persino una chiara deformazione fluidale dello scheletro, che si manifestava visibilmente sotto forma di un piede varo e della gobba. Anche gli organi interni come milza, fegato, polmone, cistifelea e tratto digerente erano seriamente danneggiati, come aveva dimostrato, senza ombra di dubbio, l'analisi di un campione delle feci, che ora si trovava in una ciotola ai piedi del dimostrante, accessibile a ognuno. Riassumendo dunque, si poteva affermare che la paralisi delle energie vitali in base a una infezione di sette anni provocata dal fluidum letale Teyad era già progredita al punto che il dimostrante, il cui aspetto esteriore del resto rivelava già notevoli tratti da talpa, si poteva definire un essere più votato alla morte che alla vita. Tuttavia il relatore si impegnava a mettere in sesto entro otto giorni quell'individuo di per sé votato alla morte, mediante una terapia di ventilazione combinata con dieta essenziale, al punto che i sintomi di una guarigione totale sarebbero risultati evidenti a tutti e evitava i presenti a convincersi entro una settimana del successo di questa proniesi, che quindi si doveva considerare senz'altro come una prova valida della giustezza della sua teoria sul fluidum letale proveniente dalla terra. La conferenza ebbe un enorme successo. Il dotto pubblico applaudì con passione il relatore e quindi si l'ò sul podio sul quale si trovava Grenoy. Con la trascuratezza che aveva conservato e con le sue vecchie cicatrici e deformazioni, in effetti Grenoy aveva un'aria così impressionante e terribile che ognuno lo ritemme semi-putrefatto e irribegliabilmente perduto, sebbene lui stesso si sentisse del tutto sano e in forze. Alcuni dei signori lo bicchettarono con le dita alla maniera degli specialisti, gli presero le misure, gli guardarono in bocca e negli occhi. Altri gli rivolsero la parola, si informarono della sua vita nella caverna e della sua condizione attuale, ma lui si attenne rigidamente a una disposizione impartita agli in precedenza dal marchese e rispose a simili domande soltanto con un rantolo forzato, facendo nel contempo con tutte e due le mani gesti di impotenza in direzione della propria laringe per far capire in tal modo che anche quella era stata rosa dal fluidum letale Tejad. Alla fine della manifestazione, Tejad e Spinass lo infagottò di nuovo e lo trasportò a casa nel sottotetto del suo palazzo. Là, in presenza di alcuni dottori selezionati della facoltà di medicina, lo chiuse nell'apparecchio di ventilazione ad aria vitale, una gabbia costruita con tavole da bete rosso a tenuta stagna, la quale, per mezzo di un cammino posto in alto, molto distante dal tetto, veniva inondata d'aria ad alta quota, priva del gas letale, e quest'aria poteva poi fuoriuscire tramite una varvola a farfalla di cuoio applicata sul pavimento. L'impianto era tenuto in funzione da una squadra di domestici che giorno e notte sorvegliavano i ventilatori del camino affinché non si fermassero. E mentre Gueneu in tal modo era circondato da una corrente d'aria purificante continua, dalla porticina di una camera di compensazione costruita a fianco con doppie pareti, gli somministravano cibi dietetici di provenienza distante dalla terra. Brodo di piccioni, pasticcio di allodole, ragù di anitre catturato in volo, frutta in conserva proveniente da alberi, pane fatto con tipi di grano dalla crescita particolarmente alta, vino dei Pirenei, latte di camoscio e crema di spuma d'uovo di polli allevati nella soffitta del palazzo. Questa cura, combinata di disinfezione e rivitalizzazione, durò cinque giorni. Poi il marchese ordinò di fermare i ventilatori e portò Gueneu in un lavattoio, dove lo immersero per parecchie ore in bagni d'acqua piovana tiepida e infine lo lavarono da capo a piedi con sapone d'olio di noci proveniente dalla città di Potosi, sulle Ande. Gli tagliarono le unghie delle mani e dei piedi, gli pulirono i denti col calcare delle dolomite ridotto in polvere, lo rasarono, gli tagliarono i cappelli, li pettinarono, li misero in piega e li incipriarono. Furono chiamati un sarte, un calzolaio e Greneu, ricevette una camicia di seta con jabot bianco e rouge bianche ai polsini, calze di seta, giacca, pantaloni, panciotto di velluto blu e scarpe eleganti con fibbia di cuoio nero, la destra delle quali nascondeva abilmente la deformità del piede. Unicamente con le proprie mani, il marchese cosparse con bianchetto di talco il viso pieno di cicatrici di Greneu. Gli applicò il carminio sulle labbra e sulle guance e diede alle sue sopracciglia una curva veramente nobile con l'aiuto di una matita morbida di carbone di tiglio. Poi lo spruzzò col suo profumo personale, un aroma alla violetta molto semplice, fece qualche passo indietro e per lungo tempo non riuscì a esprimere la propria gioia in parole. «Monsieur», cominciò a dire infine, «sono entusiasta di me stesso, sono sconvolto dalla mia genialità. In verità non ho mai dubitato della giustezza della mia teoria fluidale, naturalmente, ma il trovarla così brillantemente confermata nella terapia pratica mi sconvolge. Lei era un animale e io ne ho fatto un uomo. Un'impresa addirittura divina permette che io sia commosso. Si avvicini a questo specchio e si guardi. Per la prima volta in vita sua riconoscerà di essere un uomo. Non un uomo particolarmente straordinario, comunque eccezionale, ma pur sempre un uomo, più che discreto. «Vada, monsieur, si guardi e ammiri il miracolo che ho compiuto in lei». Era la prima volta che qualcuno chiamava Grenouille, monsieur. Si diresse verso lo specchio e vi guardò dentro. Fino allora non aveva mai guardato in uno specchio. Davanti a sé vide un signore in elegante abito blu, con camicia bianca e calze di seta. E si inchinò in modo del tutto istintivo, come sempre si era inchienato di fronte a simili signori eleganti. Ma anche il signore elegante si inchinò. E mentre Grenouille si rialzava, il signore elegante fece la stessa cosa. E poi entrambi ribasero immobili a fissarsi. Quello che sconcertò più di tutto Grenouille fu il fatto di avere un aspetto così incredibilmente normale. Il marchese aveva ragione, non era niente di speciale. Non bello, ma neanche particolarmente brutto. Era un po' piccolo di statura. Il suo atteggiamento era un po' goffo. Il viso era poco espressivo. In breve, era come mille altri uomini. Se ora fosse sceso per strada, nessuno si sarebbe voltato a guardarlo. E neppure lui sarebbe stato colpito da qualcuno simile al suo attuale lui, se l'avesse incontrato. A meno che, non si fosse accorto che questo qualcuno, a parte il profumo di Violetta, non aveva odore. Proprio come il signore dello specchio, e lui stesso, che gli stava dinnanzi. E tuttavia, dieci giorni prima, i contadini erano ancora scappati via gridando alla sua vista. Allora non si era sentito diverso da adesso, e adesso, se chiudeva gli occhi, non si sentiva minimamente diverso da allora. Gli ispirò l'aria che saliva attorno al suo corpo e annusò il profumo scadente, e il velluto e il cuoio incollato di fresco delle sue scarpe, annusò il tessuto di seta, la cipria, il belletto, l'aroma tenue del sapone di potosì. Ed un tratto seppe che non erano stati il brodo di piccione e i miracoli della ventilazione a far di lui un uomo normale, bensì soltanto un paio di vestiti, il taglio dei capelli e la piccola mascherata con i cosmetici. Aprì gli occhi ammiccando e vide che Monsieur, nello specchio, gli ammiccava di rimando e che sulle sue labbra Rosso Carminio aleggiava un lieve sorriso, proprio come se avesse voluto segnalargli che non lo trovava del tutto antipatico. E anche Grenouille trovò che Monsieur, nello specchio, quella figura in odore, mascherata e travestita da uomo, non era poi così male, perlomeno gli sembrò che essa potesse, se solo avessero perfezionato la sua maschera, fare al mondo esterno un effetto quale lui, Grenouille, non avrebbe mai pensato di poter fare. Fece un cenno alla figura e mentre essa a sua volta rispondeva con un cenno, vide che di soppiatto dilatava le narici. Il giorno seguente, mentre il Marchese stava insegnandogli le pose, i gesti e i passi di danza indispensabili per l'imminente ingresso in società, Grenouille finse un capogiro e si lasciò cadere su un divano, apparentemente privo di forze e come se fosse minacciato da un soffocamento. Il Marchese era fuori di sé, gridò per chiamare i servi, gridò che portassero ventaglie e ventilatori mobili e mentre i servi accorrevano, si inginicchiò a fianco di Grenouille e gli fece vento col suo fazzoletto profumato alla violetta e lo scongiurò, lo implorò e lo supplicò in ogni modo di rimettersi in piedi, di non esalare l'anima in quel momento, ma se era possibile, di aspettare a farlo ancora due giorni perché altrimenti la sopravvivenza della teoria del fluo ilum letale sarebbe stata estremamente compromessa. Grenouille si torse e contorse, non si immoge, mette, agitò le braccia in direzione del fazzoletto e infine si lasciò cadere dal divano in modo molto teatrale e si rintannò nell'angolo più isolato della stanza. «Non questo profumo!» gridò come allo stremo delle forze. «Non questo profumo! Mi uccide!» E soltanto quando Teilhard de Spinas gettò il fazzoletto dalla finestra e la sua giacca anch'essa profumata alla violetta nella stanza accanto, l'attacco di Grenouille si placò ed egli raccontò con voce più pacata che come profumiere era dotato di un naso sensibile dovuto alla professione e che già da sempre, ma in particolare ora, nel momento della guarigione, reagiva con molta violenza a certi profumi. Che proprio il profumo alla violetta, un fiore delizioso di per sé, lo infastidisse a tal punto, poteva spiegarselo con il fatto che il profumo del Marchese conteneva un'elevata percentuale di estratto di rantici e di viola, il quale, per via della sua origine sotterranea, esercitava un effetto rovinoso su una persona contagiata dal fluidum letale quale era lui, Grenouille. Già il giorno precedente, alla prima applicazione del profumo, si era sentito mancare e oggi, quando aveva percepito di nuovo l'odore della radice, era stato proprio come se lo stessero ricacciando di nuovo in quell'orribile buca soffocante in cui aveva vegetato per sette anni. La sua natura si era ribellata a quella sensazione, altro non poteva dire, giacché, dopo che l'arte del signor Marchese gli aveva ridonato una vita da uomo in un'aria pura, avrebbe preferito morire subito, piuttosto che sporsi ancora una volta all'odiato fluidum. Ancora adesso tutto si torceva in lui se solo pensava al profumo della radice. Tuttavia credeva fermamente di potersi ristabilire sull'istante se il Marchese gli permetteva di progettare un proprio profumo che annientasse totalmente l'aroma della violetta. Per l'occasione pensava a un tono particolarmente leggero, arioso, composto per lo più da ingredienti lontani dalla terra, come acqua di mandorle e di fiori d'arancio, eucalipto, olio di aghi di pino e olio di cipresso. Un solo spruzzo di un simile aroma sui suoi vestiti, un paio di gocce soltanto sul collo e sulle guance, e sarebbe stato premunito una volta per tutte contro il ripetersi dello sgradevole attacco che l'aveva appena sopraffatto. Ciò che noi qui, per amor di comprensione, riferiamo come un ordinato discorso indiretto in realtà fu uno scoppio di parole gorgoglianti durato mezz'ora, interrotto da molti colpi di tosse e da rispiri mozzati e affannosi che Grenoy accompagnò con trementi e gesticoli a gran rotear d'occhi. Il Marchese fu seriamente impressionato. Più ancora della sintomatologia del male lo convinse la fine argomentazione del suo protetto che rispondeva perfettamente alla teoria del fluidum letale, naturalmente. Era il profumo della violetta, un prodotto ripugnante che cresceva vicino alla terra, anzi addirittura sotterraneo. Probabilmente anche lui, che lo usava da anni, ne era infetto. Non aveva sospettato che con questo profumo si stava approssimando alla morte giorno per giorno. La gotta, la ricidezza della sua nuca, l'affrosciarsi del suo membro, le immorroidi, l'oppressione alle orecchie, il dente carriato, tutto ciò si doveva senza dubbio al puzzo della radice di viola contaminata dal fluidum. E quello sciocco ometto, quel mucchietto miserabile rintanato nell'angolo della stanza, gliel'aveva suggerito. Era commosso. Avrebbe voluto avvicinarsi a lui, risollevarlo e stringerlo al suo cuore, illuminato dalla rivelazione. Ma temeva di avere ancora addosso l'aroma della violetta e quindi chiamò ripetutamente i servi e ordinò di allontanare dalla casa tutto il profumo alla violetta, di arreggiare tutto il palazzo, di disinfestare i suoi vestiti nel ventilatore ad aria vitale e di portare subito Grenoy dal miglior profumiere della città con la sua portantina. Ma proprio questo era lo scopo che Grenoy si era perfisso col suo attacco. L'arte del profumo aveva una vecchia tradizione a Montpellier e sebbene negli ultimi tempi fosse un po' decaduta rispetto a Grasse, città concorrente, c'erano vali di maestri profumieri e guantai in città. Il più stimato tra loro, un certo Runeel, considerando le relazioni commerciali con la casa del marchese della Tegliade Espinasse, al quale forniva saponi, olie e sostanze aromatiche, si dichiarò pronto alla concessione straordinaria di cedere per un'ora il suo laboratorio al singolare garzone profumiere parigino arrivato in portantina. Costui non si fece spiegare nulla, non volle sapere nulla su dove e come trovare le cose, se ne intendeva, disse, si sarebbe arrangiato, si chiuse il laboratorio e vi rimase per un'ora buona, mentre Runeel, con il maggior dono del marchese, si recoglie un'osteria a bere un paio di bicchieri di vino e la dovette attendere, il motivo per cui non era più possibile annusare il profumo della sua acqua di viole. Il laboratorio e il negozio di Runeel non erano certo riforniti con la dovizia di mezzi che caratterizzava a suo tempo il negozio di sostanze odorose di Baldini a Parigi. Con il poco che c'era di oli, di fiori, di acque, di spezie, un profumiere medio non avrebbe potuto fare grandi cose. Tuttavia, Grenoie, al primo fiuto, capì che le sostanze presenti erano più che sufficienti per i suoi scopi. Non voleva creare un grande profumo, non voleva miscelare un'acquetta di prestigio come aveva fatto un tempo per Baldini, qualcosa che emergesse dal mare della mediocrità e ammansisse la gente. E neppure un semplice profumino di fiori d'arancio, come aveva promesso al Marchese, era il suo vero scopo. Le comuni essenze di neroli, eucalipto e foglie di cipresso dovevano soltanto nascondere il vero profumo che si era proposto di creare ed era il profumo dell'umano. Anche se per il momento sarebbe stato soltanto un cattivo surrogato, voleva appropriarsi dell'odore degli uomini che lui stesso non possedeva. Certo, non esisteva l'odore degli uomini così come non esisteva il volto umano. Ogni uomo aveva un odore diverso. Nessuno lo sapeva meglio di Grenoy, che conosceva migliaia e migliaia di odori individuali e distingueva al fiuto gli esseri umani già dalla nascita. E tuttavia, esisteva una nota fondamentale dell'odore umano, del resto abbastanza semplice, una nota fondamentale di sudore grasso, di formaggio acidolo, nell'insieme assolutamente disgustosa, ugualmente propria a tutti gli uomini e al di sopra della quale, più raffinate, più isolate, alleggiavano le nuvolette di un'aura individuale. Ma quest'aura, la sigla estremamente complessa e inconfondibile dell'odore personale, era comunque impercettibile per la maggior parte degli uomini. I più non sapevano di possederla, oppure facevano di tutto per nasconderla sotto i vestiti o sotto odori artificiali alla moda. Conoscevano bene soltanto quell'aroma di fondo, quell'esalazione primitiva d'umano, in essa soltanto vivevano e si sentivano protetti e chiunque emanasse quel nauseante fluvio comune era da essi considerato come un loro pari. Fu uno strano profumo quello che Grenoi creò quel giorno. Fino allora non ce n'era stato mai uno più strano, non aveva l'odore di un profumo, bensì di un uomo che ha un profumo. Se qualcuno avesse sentito questo profumo in una stanza buia, avrebbe creduto che nella stanza ci fosse un altro. E se un uomo con l'odore di un uomo l'avesse usato all'olfatto, avrebbe dato l'impressione di due uomini, o, peggio ancora, di una mostruosa duplice creatura, come una figura che non si riesce più a fissare in modo netto, perché sfocandosi si presenta come un'immagine sulla superficie di un lago su cui tremolano le onde. Per imitare questo profumo umano, del tutto insufficiente, come ben sapeva, ma riuscito quel tanto da ingannare gli altri, Grenoi raccolse, qua e là nel laboratorio di Runeel, gli ingredienti più stravaganti. Dietro la soglia della porta, che conduceva in cortile, c'era un cumuletto di merda di gatto, ancora abbastanza fresca. Ne prese un mezzo cucchiaino e lo mise nella bottiglietta con la miscela assieme ad alcune gocce d'aceto e a sale pestato. Sotto il tavolo da lavoro trovò un pezzetto di formaggio grande quanto lunga di un pollice, restò evidente di un pasto di Runeel. Era già abbastanza vecchio, cominciava a decomporsi ed emanava un odore anche pungente. Dal coperchio del barile delle sardine che si trovava nella retro bottega grattò via un qualche cosa che sapeva di pesce rancido. Lo mescolò con uovo marcio e castoreo, ammoniaca, noce moscata, limatura di corno e cotenna di maiale ridotta in briciole minute. Vi aggiunse inoltre una porzione piuttosto consistente di zibetto. Mescolò questi orridi ingredienti con l'alcol, fece macerare il tutto e lo filtrò in una seconda bottiglia. Il liquido emanava un odore spaventoso, puzzava di cloaca, di putrescenza e rimescolando la sua esalazione con una sventagliata d'aria pura si aveva l'impressione di trovarsi in un caldo giorno d'estate in Rue Offert a Parigi all'angolo con Rue della lingerie dove si incrociavano gli odori dei capannoni del mercato, del cimiter des innocents e delle case sovraffollate. Su questa base atroce che in sé aveva un odore più simile a quello di un cadavere che non di un uomo, Grenoie applicò uno strato di aromi oleosi freschi, menta, lavanda, trementina, limone acido e eucalipto che in modo eroe mitigò gradevolmente con un bouquet di oli di fiori raffinati come geranio, rosa, fiori d'arancio. Dopo un'ulteriore rarefazione con l'alcol e un po' d'aceto, la base che costituiva tutta la miscela non aveva più un odore disgustoso. Con l'aggiunta di ingredienti freschi il puzzo latente si era dileguato e era divenuto impercettibile. La nota disgustosa era stata mitigata dall'aroma dei fiori, anzi, era diventata quasi interessante e stranamente non si percepiva più nulla della putrefazione né pur la minima traccia. Al contrario, sembrava che il profumo emanasse un forte aroma pieno di slancio vitale. Grenoy ne riempì due flaconi che tappò e mise in tasca poi lavò accuratamente con acqua bottiglie, mortaio, imbuto e cucchiaio. Li sfregò con l'olio di mandorle amare per cancellare qualsiasi traccia di odore e ha preso un'altra bottiglia. In essa miscelò rapidamente un altro profumo, una specie di copia del primo, anch'esso composto di elementi freschi e di parti di fiori, ma la cui base non conteneva più nulla del decotto stregonesco, bensì ingredienti convenzionali come muschio, ambra, un pizzico di zibetto e olio di legno di cedro. Preso a sé aveva un odore totalmente diverso dal primo, più piatto, più integro, meno virulento, perché gli mancavano le componenti dell'odore imitato da quello dell'uomo. Ma quando un uomo comune lo usava ed esso si univa al suo odore personale, non era più possibile distinguerlo da quello che Grenoil aveva creato esclusivamente per sé. Dopo avere versato anche il secondo profumo in flacconi, Grenoil si spogliò e cosparse i propri abiti con il primo profumo. Poi se lo piccettò sotto le ascelle, tra le dita, sul sesso, nel petto, sul collo, sulle orecchie, sui capelli, si rivestì e lasciò il laboratorio.